oltre a collegare il nostro iniziale event cioè il primo evento che contiene necessariamente un operatore birth con il secondary event cioè gli altri eventi essi consentono di far interagire il sistema con alcuni elementi esterni reali o di valore numerico se mi consentite l'espressione difatti abbiamo a disposizione i text come age test invia le particles in base al tempo età delle stesse collision consente di far interagire i deflettori con l'evento interessato collision spawn consente l'iterazione dei deflettori ed anche un maggior controllo sulle azioni successive find target consente tramite un elper o una geometria di direzionare le parti calls in una determinata posizione go to rotation permette di ruotare le parti calls in modalità graduale dopo un determinato periodo temporale lock and bond molto particolare poiché consente di bloccare le parti calls ma anche di generarne di nuove con diverso comportamento scale test in base al controllo del fattore di scala di un oggetto prima e dopo consente di inviare le parti calls ad un secondary event script test controllo tramite mass script send out invia tutte le particelle dall'evento in cui si trovano al successivo spot invia in base a una determinata scelta le parti calls al successivo evento speed test invia le particelle in base alla velocità delle stesse split mount invia un numero specifico di particles ad un secondo evento split group si collega e serve molto quando si utilizzano gli group operator split selected in base ad una selezione consente di inviare le particles ad un altro evento split source divide all'origine il flusso generato dalla sorgente in della source